E' arrivato il mio turno, è arrivato il mio turno capocce, è arrivato il turno di esprimermi su uno dei temi che maggiormente dividono il mondo rossonero. E' giusto scaricarlo o magari sarebbe giusto ancora puntare su di lui? Avete sicuramente capito a chi mi riferisco. Prima di iniziare però mi raccomando ragazzi la filastrocca è uguale, il vostro supporto è fondamentale. Non dimenticate mai di mettere like al video, di commentare, di iscrivervi al canale. Fatemi proprio sapere cosa ne pensate perché sono veramente curioso di capire con la mia community su questo tema. Cosa pensa? Correte di iscrivervi al canale di Josip Joseph e a proposito andate sul suo canale a recuperare la diretta di ieri, una diretta di poco più di 50 minuti. Il tempo è volato, ci siamo divertiti e abbiamo parlato veramente di tutti i temi più importanti in questo momento in orbita Milan. Andate anche a iscrivervi al canale di Domebette, insieme noi tre formiamo l'angolo rossonero insieme di diretti e di eranti. Detto questo, allora ragazzi con la demaldinizzazione praticamente del Milan dopo il brusco, improvviso e anche brutto nei modi licenziamento di Polo Maldini sono venute meno le garanzie di protezione nei confronti di molti elementi della rosa come ad esempio il Kier della situazione, il Florenzi della situazione, eccetera, eccetera, eccetera fino a finire al pupillo di Polo Maldini della campagna estiva passata, ovvero Charles de Quetelare. Ora ragazzi, cosa fare con lui? Perché già avete letto praticamente in tutti i giornali tutti gli organi di stampa, hanno già detto che il Milan è disposto a cederlo prima, era disposto a cederlo solo a titolo definitivo, adesso si parla di un prestito ma con obbligo di riscatto in maniera tale da in qualche modo far passare un altro anno per poi averlo a bilancio intorno ai 20-21 milioni e poterlo vendere 23-24 per fare una minima plusvalenza. Cosa ne penso io? Allora ragazzi, è un tema che divide sicuramente perché troverai sempre l'accanito sostenitore di De Quetelare e troveremo sempre colui che pensa sia un bidone. Io personalmente mi sono esposto a favore del suo acquisto, lo sapete, ho fatto il video e ritengo che la gestione del talento De Quetelare sia stata fallimentare dal punto di vista di Pioli. Perché? Molti hanno fatto il paragone con Leao, Tonali. Ragazzi, il Leao è diventato Leao, il Tonali è diventato Tonali dopo il primo anno in ombra perché nell'anno in ombra giocavano, ricordatevi, praticamente c'era la prima partita giocava Rebic, la seconda giocava Leao poi Leao, la partita in cui giocava titolare Rebic, subentrava 30 minuti e così via dal primo all'ultimo giorno dell'anno. È stato un continuo puntare su Leao, puntare su Leao, stessa cosa di Tonali ragazzi, Tonali giocava da 4 e mezzo, Tonali giocava da 5 la volta dopo titolare. I primi 6 mesi li ha avuti uguali Berasser, tutti lo criticavano perché veniva sempre ammunito sbagliava gli interventi, sbagliava i tempi, perché cambiava da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2 addirittura lui già giocava in Italia. Purtroppo la gestione di De Quetelare è stata fondamentale fermo restando nel calciatore una grande dose di colpa perché si è subito buttato giù a livello mentale però è anche vero che il ragazzo De Quetelare appena arrivato in Italia giocava spensierato le prime 5 partite le aveva fatte sugli scudi, aveva fatto ottime prestazioni, cioè col Bologna aveva fatto brillare gli occhi a tutta San Siro aveva fatto giocate tenni di nota. Ricordo ancora quel meraviglioso passaggio che ha fatto a Calullo un passaggio che vedono pochi calciatori, un meraviglioso filtrante, praticamente lancio lungo filtrante meraviglioso che aveva messo Calullo davanti la porta. Vanno avanti le partite, gioca anche bene col Napoli perché lui che è in becca di Hernandez che poi fa segnare il giro 1 inizia praticamente a prendere sostanzialmente le misure del campionato italiano. Cosa succede? Arriva il derby, gioca titolare e viene additato da Pioli colpevole per non aver seguito Brozovic fino alla sua area. Ora ragazzi, lasciando stare il fatto che il calciatore ha sbagliato perché doveva stare su Brozovic in fase di non possesso, ma ragazzi possiamo mai pretendere che De Ketelare arrivato dal Belgio dove giocava a punta, praticamente non difendeva mai, possa seguire Brozovic fino al limite dell'aria? È interamente colpa sua se la difesa era praticamente messa a gambe aperte che neanche in un film porno? Ora, la verità sta nel mezzo. La verità è che dopo quella partita De Ketelare ha sbagliato, ma nonostante l'errore aveva fatto una buona partita, da lì viene panchinato. Viene panchinato la prima, la seconda, la terza, non gioca più. Non gioca più, quindi lui ogni volta che poi subentra dopo quelle 3-4 partite di panchina, 90 minuti, gioca col terrore di sbagliare. Lo vedi? Riceve palla, si nasconde, ha paura di osare. Le stesse giocate che faceva le prime 5 partite praticamente spariscono. Da lì De Ketelare verrà messo o solo gli ultimi 10 minuti oppure titolare quando la partita non conta un cazzo per Pioli insieme ad altri 9-10, lo abbiamo criticato tanto, no? Pioli per il turnover pesante che ha fatto. Lì è veramente difficile poi incidere insieme a 9 compagni che non hanno mai giocato insieme. Il mio ne ha fatto cagare tutte quelle partite, non è un caso. Lì il calciatore si è perso. Secondo me la gestione di Pioli ha una grande dose di colpe non solo nei confronti di De Ketelare, nei confronti di Franks, nei confronti di Adria è stato addirittura anche peggio però su De Ketelare non gli è stata data l'opportunità di sbagliare. Secondo me non gli è stata data la tranquillità di poter sbagliare. Del tipo sbaglia, non ti preoccupare, sei giovane, sei forte. In realtà il primo errore in marcatura è stato subito fatto fuori e da lì non è stato più utilizzato con dovere. Oltretutto io da inizio anno praticamente dico mettetelo esterno destro. Mettetelo esterno destro perché? Perché è anche vero che lui in una sua crescita potrebbe giocare trequartista centrale però in Italia dove il tatticismo è esagerato, dove praticamente il trequartista riceve palla e ne ha già due addosso, allargarlo lo agevola. Ed è la stessa identica cosa, la stessa identica cosa io la dico donando. L'allenatore dell'Under 21 l'ha detto uno o due mesi fa. Ha detto metterlo sull'esterno perché così lo si libera un po' della marcatura e si permette di ricevere palla puntando la porta. Ora, cosa farei io? Ragazzi miei, io sono un sostenitore di De Chetelare per me il suo valore verrà fuori, però sono anche uno che guarda in faccia la realtà. Se effettivamente, perché poi noi vogliamo il bene del Milan, non il bene di De Chetelare se io già so a priori che Pioli non lo vede, non lo schiera, lo farà giocare saltoriamente lì e rovinare un giocatore e rovinare un patrimonio. A quel punto, se ci fosse la possibilità di, come ho detto nel video del calcio mercato, andatelo a recuperare, ci fosse la possibilità di venderlo, recuperare i soldi e andarli a piazzare la Lazio per prendere un calciatore pronto come Milinkovic, oppure puntare su un altro talento generazionale su cui la proprietà crede, questa nuova proprietà crede, come ad esempio Guler, lo abbiamo visto ieri il meraviglioso gol, ma lì si tratta di un talento sulla bocca di tutti, difficile da prendere, commissione elevatissima che chiede il papà. A quel punto mi va bene questo scambio, perché vai a prendere Guler, che molto probabilmente diventerà qualcuno di importante, a patto che non sia il titolare, ma sia la riserva di un eventuale chiuquezzo, così anche da non dare troppe pressioni al ragazzo. Contestualmente mi vieni De Chetelare, così ti pari il culo, nel senso dovesse esplodere in un'altra squadra, hai comunque preso Guler, che nel mio modo di vedere farà bene, perché proprio l'ho visto giocare con quella spocchia, spensieratezza dei grandi, mi ha ricordato tantissimo, non voglio fare paragoni lustri, non voglio montare il calciatore nelle movenze e basta, perché poi non stiamo lì sempre a paragonare a qualcuno. Nel tocco di pala mi ha ricordato molto un misto tra ozilla e Dybala, nelle movenze, nel modo in cui ondeggia, mi ha ricordato un po' Dybala, però stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, quindi diamogli comunque il tempo di crescere, ecco perché lo voglio riserva eventualmente di un esterno. Qualora non ci fosse questa possibilità, puntiamo su De Chetelare, ragazzi, puntiamo, perché poi può succedere di tutto, può succedere che viene rivitalizzato dall'Under 21 talmente tanto che poi torna al ritiro, il Milan lo vuole vendere, però effettivamente nelle prime gambe stagionali fa brillare anche gli occhi a Pioli, che non è uno di coccio. Poi messo di fronte all'evidenza, Pioli comunque l'idea la cambia. Non è un conte molto settoralizzato sulle sue idee, ha dimostrato più volte magari di essere testardo, però messo di fronte all'evidenza, poi ecco, l'idea la cambia. Soprattutto è importante chiarire il modulo che andremo ad utilizzare l'anno prossimo, perché in un 4-3-3, così come gioca il Belgian Under 21, mettono un De Chetelare riserva dell'esterno di destra, comunque sia un binomio fatto da Chukweds De Chetelare, un enorme passo avanti rispetto a messo su Selmegar, quindi chiariamo questo aspetto, chiariamo questo modulo, perché in un 4-3-3 sicuramente De Chetelare ha molta più libertà rispetto a un 4-2-3-1, dove comunque un minimo di copertura la deve assicurare. È importante chiarire questo, perché se poi mi passa il 4-3-3, per esempio, quindi Kamada, me lo vai a mettere mezzala, a quel punto io ci penserei due volte a vendere l'ad lì della situazione, perché già ce l'è in casa la perfetta mezzala. Cioè, lì poi sarebbe un gioco di incastri, sarebbe un gioco di insomma andare a vedere che mercato fare, però ecco, questo sostanzialmente è il mio pensiero su De Chetelare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, perché ragazzi è importante, voglio sapere, lo sapete, rispondo a tutti, ci tengo ai vostri pareri, perché magari ecco mi date uno spunto di riflessione in più, magari ho sbagliato nella mia analisi, magari mi fate notare un qualcosa che ho notato, ci tengo veramente tanto. In sintesi, ci fosse la possibilità di prendere un calciatore fortissimo che alza a livello come Milinkovic-Savic, oppure un altro talento generazionale come Arda Guler, insieme all'esterno destroforte, mi va bene la cessione di De Chetelare, se Pioli proprio non lo vede. Altrimenti io non ci fosse la possibilità di prendere un calciatore che alza a livello, non ci fosse la possibilità di prendere Arda Guler. Ragazzi, a questo punto io credo nel patrimonio di De Chetelare, cercando di mettere nelle migliori condizioni, a patto che lui durante il ritiro, in un mesetto, in quella amichevole, dimostra di esserci con la testa e di voler fortemente riconquistare tutti. Vi ringrazio per essere stati qui con me, mi raccomando Capocci, andate ad iscrivervi in questo riguardo qua, andate a commentare, mettete like, ci vuole un attimo e un semplice clic. Buon pranzo a tutti, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, bella ragazza.